Qua si uniscono i sumeri, la lingua sumera, le divinità sumere, sia con il Centrasia, ma soprattutto con i Sardi. Questo è un bel puntinone grosso da unire. I Dogon hanno sempre dipinto la loro stella Sirio B, che a occhio nudo potete stare tranquilli non la vedrete mai. Loro la chiamavano Potolo, la stella piccola di Sirio. E in Ommo, fra l'altro, in Ommo non erano altro che gli uomini pesce. Se noi andiamo alle leggende sumere mesopotamiche, in Ommo era Oannes. In Sardegna, per definire la parola acqua, si dice Ea. Il nome sumero di Enki o di Oannes era Ea. Pensate un po' che coincidenza. Questo è un grosso puntino da unire. Noi, per esempio, in Sardegna abbiamo un paese che si chiama Pabilonis, proprio vicino a Sardara, fra l'altro, dove hanno trovato quelle tombe. Pabil era il dio sumero della guerra, era un Anunnaki. Tanti toponimi che ci sono in Sardegna richiamano delle divinità mesopotamiche, che noi lo vogliamo oppure no. Purtroppo qua si parla di archeologi allineati o di archeologi di frontiera. Chi si è alleato del sistema ha fatto carriera, chi invece non era alleato del sistema è stato bruciato in partenza.